Concerto Macabria e Sinov Redemption Ma inquadra un po' Ma chi è che ha chiesto amicizia su? Il pubblico C'è qua abbiamo toccato il fondo Io parto Non ti era mai capitato una cosa del genere Pubblico molto alternativo alle nostre serate E ora ci troviamo davanti al Mac 2 Con un pubblico alternativo di discotecari di merda Sarà un concerto La serata memorabile In cui si è toccato il fondo I due mondi si incontrano